Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni di TV6. Nel corso di questo lunedì 20 giugno avremo ancora il dominio quasi totale dell'anticiclone africano all'interno del Mediterraneo e anche sulla nostra penisola. Le uniche note instabili saranno possibili all'estrema nord, sull'arco alpino, in particolare qui avremo qualche temporale, qualche equazione pomeridiano, però nulla di particolarmente significativo ed esteso. Altrove, come detto, l'anticiclone regalerà una nuova giornata pienamente estiva. In Abruzzo cieli sereni ovunque, un inizio di settimana dominato dal bel tempo e dal clima caldo. Di fatti avremo un aumento delle temperature. Le massime sfioreranno i 31-32 gradi, specie negli aree interne a bassa quota, ma caldo anche in montagna e negli aree più interne. Valori oscilleranno tra i 29 e i 32 gradi. Le minime ancora relativamente basse, valori attorno ai 13-17 gradi. Negli aree interne 20 gradi lungo le coste. Grazie per l'attenzione. A tutti voi una buona giornata. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.